Il calcio italiano resta in rosso, negli ultimi 16 anni perdita di oltre 8 miliardi, raccontaci un po' quello che è emerso dall'ultimo report perché ovviamente quando poi il tifoso è lì che spera, aspetta e chiede alla società di fare sforzi, di fare acquisti poi ovviamente tutto questo va a scontrarsi con quello che poi è l'aspetto economico e di bilancio Sì assolutamente, poi soprattutto quando vediamo top club in particolare della Premier League che arrivano con offerte incredibili di 50, 60, 70 milioni di euro si capisce ovviamente che c'è una differenza a livello di potenza economico tra i club italiani e i club inglesi sostanzialmente oggi è stato pubblicato il report calcio della FGC che analizza di fatto quello che è stato di salute tra gli altri temi economico finanziario del calcio in Italia Il calcio professionistico resta in rosso come hai detto anche tu e sono una perdita di 8 miliardi negli ultimi 16 anni di fatto ma c'è anche da dire che non è tutto negativo perché questa perdita sta andando a diminuire sempre più di questi 8 miliardi di perdita la metà sostanzialmente sono legate agli anni del covid gli anni in cui la pandemia del covid ha colpito maggiormente anche dal punto di vista economico i club quindi c'è comunque qualche segnale anche di miglioramento dei conti però la strada è ancora lunga perché l'obiettivo poi come ha spiegato lo stesso presidente della FGC Gravina oggi è quello di arrivare a un equilibrio tra i costi e quelle che sono le entrate tra i club una strada difficile, una strada impervia, una strada che passa anche da qualche sacrificio che magari non sempre i tifosi vedono di buon occhio però alla fine c'è anche un aspetto di dover far quadrare i conti a fine anno a bilancio e questa è una tematica sempre più importante per le società in particolare per le società italiane Sì, infatti a 20 giorni dalla fine del mercato poi vediamo molti club che ancora hanno un po' il cartello da lavoro in corso perché sono un po' bloccati, hanno bisogno prima di fare delle uscite prima di poter fare altre entrate ecco in questo senso, ne parlavamo anche in precedenza l'Atalanta rappresenta un po' quasi una mosca bianca o comunque un esempio molto virtuoso si può permettere nel momento in cui lì si infortuna un giocatore quindi c'è un imprevisto di nel giro di tre giorni imbastire un'operazione col Genoa si parla di 22 milioni più 3 di bonus per Reteghi operazione praticamente fatta pochi altri club possono muoversi in questo modo anche perché l'Atalanta arriva da anni di bilanci chiusi inutile che in Italia è davvero come se fosse una mosca bianca è una mosca bianca l'Atalanta in questo senso quindi sicuramente è uno dei club che hanno maggiore disponibilità di spesa anche perché poi arriva da tante stagioni importanti la partecipazione alla Champions League di diverse stagioni la scorsa annata con la vittoria dell'Europa League ha portato anche a un aumento di ricavi e poi soprattutto c'è poi sempre il tema delle cessioni e delle plusvalenze su cui l'Atalanta è stata maestra da questo punto di vista negli ultimi anni se pensiamo a operazioni come Oliun della scorsa stagione oppure anche Coluseschi ci sono state diverse operazioni di questo tipo negli ultimi anni che hanno permesso di incassare soldi che poi adesso l'Atalanta può reinvestire anche perché poi ci sarà come ulteriore elemento di leva economica anche quello dello stadio che è stato di fatto completato con gli ultimi lavori e quindi anche questo potrà essere una nuova fonte di entrata importante per l'Atalanta che quindi è entrata sostanzialmente in quello che è un circolo virtuoso in cui più fai risultati positivi e più incassi più può permetterti anche poi di reinvestire sul mercato e l'operazione Rettegui se dovesse andare in porto in tal senso spiega sicuramente qual è la situazione dell'Atalanta in questo momento non so quante altre squadre anche tra i top club possono dal momento all'altro andare a prendere un giocatore a 25 milioni per sostituire un giocatore che poi come Scamacca che poi prima o poi della prossima stagione immagino rientrerà si parlava di 5-6 mesi quindi comunque è un'operazione importante da questo punto di vista Sì sì, insomma abbiamo parlato di tutto il giorno domani potrebbero già esserci le visite mediche quindi veramente un'operazione lampo quella definita dall'Atalanta che evidentemente voleva anche portarsi a casa un giocatore già per la Supercoppa Europea che è tra pochi giorni anche solo averlo a disposizione vedremo se poi sarà così se tutto andrà ad incastrarsi tra l'altro a proposito di stadi notavo un pezzo interessante su calcio-finanza.it sul premio del miglior terreno di gioco 2023-2024 insomma ha vinto l'Allianz Stadium ma chi l'ha deciso? ecco come nasce questo beh è un premio che assegna la Lega Serie A e la Lega Serie A ha i migliori campi in termini proprio di terreno di gioco come Prato come condizioni anche dal punto di vista poi dell'immagine che dà a livello televisivo è stato istituito due anni fa dalla Lega Serie A il primo anno l'ha vinto la Dacia Arena della storia dell'Udinese la scorsa stagione il Gevis Stadium tra l'altro dell'Atalanta come parlavamo anche prima quest'anno è toccato la Juventus davanti al Gevis Stadium sempre di Bergamo e al Mapei Stadium di Reggio Emilia quindi è un premio che va anche a certificare quello che è un lavoro dal punto di vista sia delle condizioni del Prato che è fondamentale per quanto riguarda poi il gioco letteralmente nel senso che più un campo in ottime condizioni meglio anche se gioca a calcio ma anche di quello che è l'immagine che serve anche dal punto di vista televisivo tant'è che c'è un nuovo regolamento in vigore da quest'anno appunto che va anche a definire quali sono i livelli di verde di fatto del terreno di gioco quindi sono anche aspetti che sembrano minoritari sembrano di secondo livello ma poi sono elementi importanti anche all'estero quante volte si dice guardate che bella l'atmosfera della Premier League perché c'è un bel campo c'è un bel verde ecco quindi anche da questo punto di vista è sicuramente un aspetto su cui la Serie A sta intraprendendo una strada per andare a migliorare